Il giornalista Rino Genovese, conduttore delle trasmissioni di promozione territoriale Buongiorno Italia e TG itinerante in onda sul Rai 3 Campania, questa mattina con la troupe della Rai è stato a Montesano sulla Marcellana per presentare e far conoscere a tutta la Campania il suggestivo Borgo in gara per l'edizione 2024 del Borgo dei Borghi, concorso che rientra nella più ampia trasmissione Chilimangiaro e che punta a valorizzare bellissimi centri storici di cui è ricca l'Italia. Per ogni regione viene scelto un borgo e a rappresentare la Campania quest'anno c'è proprio la città termale valdianese. Tante le bellezze e le eccellenze da conoscere che Rino Genovese vuole mostrare i campani per invitarli al voto. Ad accoglierlo questa mattina il sindaco di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi e la sua amministrazione che ha ricordato le tante eccellenze di cui il comune è ricco e che meritano di essere valorizzate. Eccellenze che vanno dalla cultura all'enogastronomia senza dimenticare la lunga e appassionata storia. Un borgo che così come sostenuto più volte da Rinaldi può crescere ed essere valorizzato solo se visto nel più ampio contesto Vallo di Diano e pertanto l'occasione della presenza delle telecamere RAI rappresenta un appuntamento da condividere con tutto il comprensorio per le caratteristiche similari che contraddistinguono i diversi borghi valdianesi. È nuovamente una giornata di festa, festa di promozione, di valorizzazione, di crescita della bellezza non solo di Montesano perché Montesano è un tassello principale dell'intero Vallo di Diano, della provincia salernitana e quindi aggiungiamo un ulteriore importante punto nella promozione territoriale che stiamo portando avanti in vasta scala. Chiaramente è un'occasione anche per rilanciare la competizione che stiamo in questi giorni affrontando a livello nazionale nella trasmissione Borgo dei Borghi per ottenere la qualifica di Borgo 2024. È un'importante anche questa vetrina che ci consente di far conoscere Montesano fuori dai confini regionali e non solo e quindi chiaramente siamo impegnati anche con la trasmissione di oggi a valorizzare tipicità, eventi, bellezze, architetture, storie, bellezza del territorio. Le eccellenze sono tante, noi andiamo dal miglior pasticcere d'Italia, Giuseppe Manila, passando per le note aziende della lavorazione dell'acqua o le comunità e via dicendo. Montesano, ma ripeto, il Vallo di Diano ha tante eccellenze. Ora si tratta di metterle a sistema anche con le nuove start-up, con le nuove best practice giovanili. Abbiamo aziende agricole che stanno lavorando la patata di Perillo che si mostra particolarmente di qualità. Nel panorama anche questo vasso, si inizia a vendere anche nella città di Salerno. Quindi noi abbiamo istituito un paniere delle tipicità con il prodotto d'Ego proprio per valorizzare queste attività che si stanno sulle fragoline di montagna fuori campo e via dicendo. Tante attività che si stanno allargando nel territorio, ma ripeto, unite anche a una valorizzazione della nostra storia che va dal Novecento di Filippo Gagliardi per andare ancora prima a un medioevo di Montesano che stiamo riscoprendo anche con recente pubblicazioni e ricerche, passando ovviamente per i grandi monumenti del territorio, sia religiosi che laici. Messi tutti insieme, sia le attività di eccellenza, sia i beni culturali, sia gli eventi culturali, sociali, le grandi associazioni ci danno una grande mano, il fervento anche sportivo. Messo tutti insieme pensiamo di poter competere e rinnovo il vita al votare entro il 17 marzo ogni 24 ore libere www.rai.it.it.it di votare Montesano per le ragioni che dicevo prima. Per me la fusione cittavallodidiano è già realizzata nei fatti. Per quanto mi riguarda la visione politica mia, della mia amministrazione, ma anche della cittadinanza che mi sostiene e mi ha sostenuto in tutte le sfide elettorali, è chiarissimo. Noi non mettiamo barriere di confini geografici. Ci siano da un punto di vista burocratico, amministrativo, legislativo, va bene, ma da un punto di vista di promozione, di impegno, di collaborazione, di rete, di sinergie, noi ci sentiamo pienamente un'unica cosa con il Vallo di Diano. è solo se siamo insieme, possiamo competere con i grandi centri.